Ma Paperio è contro i computer! Ma state zitti haters del cazzo, che cacchio me ne frega a me! Va bene, va bene! Volete avere la prova in cui Paperio non è contro i bot? Sì, questa qua è la... il camice da King. Questo qua in teoria dovrebbe essere la corona, ma non c'entra un cazzo. Ecco, mi tolgo anche il mantello da King. Vi voglio dare la prova che Paperio non è contro i bot. Team City, Team City, Team City. Ecco, Luxembourg, vabbè. Face of Vengeo, Vengeano. Volete che un computer si chiama Face of Vengeano? No! Avete mai conosciuto una persona che... un computer che si chiama Bolam? No! Luxembourg potrei anche capire. Pinky Sainte, Santo Rosa, non ha senso. Non può essere un computer. Trusty, Bean. Chiesto qua? Flower Photo Planet. Eh, vorrete che uno si chiama così? No? Non è un computer, ragazzi. Full Protoplanet, poi non Photo Planet. Comunque, ragazzi, bella a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo. Io sono Master06. Volevo solo dare una prova ai miei haters che Paperio non è contro i bot. Vorrei farvi vedere alcuni dei commenti che mi hanno lasciato sotto i video, se ci sono ancora, se no li ho eliminati. No, ragazzi, li ho eliminati perché c'era già... c'è una persona che mi ha fatto troppo ridere. Mi dava del ritardato di merda. Mi dava... Mi peggio insulti. Mi peggio insulti. Allora sai cosa ti dico? Tu, spero che tu stai guardando questo video. Dei tuoi insulti non me ne frega un cazzo, va bene? Io sono il king di Paperio e non è contro il computer. Non so che mi dici del ritardato di merda. Io ti do anche del figlio di pu... Eh? Vado a chiudere la porta perché è rimasta aperta. Magari mi stai intorno e mi sento. Germano, non cominciare che è un'altra volta che ho dovuto menare Totò. E non voglio menare te. Quindi, ragazzi, mantello invisibile. Volete l'uomo invisibile che gioca per io? Eh? No. Eh, no. Quindi, Germano, non cominciare a rompere i coglioni. Vai tu in mona, ricordatelo. Vabbè, lasciamo stare. Lasciamolo stare. Hai dei problemi, Germano? Lo sappio. Baccio tutto a favore. Mir cat match. Un match. Una partita tra gatti mir. Ma può essere un computer uno che si chiama così? No. Dominic Hamilton Hamilton non è conosciuto su Paperio Cioè non può essere un computer uno Che si chiama Hamilton No? E sapete perché vinco? Perché io sono bravo Questa partita no Però io sono bravo a giocare a Paperio Va bene? Ci ho giocato tipo 5 o 6 volte Però sono bravo Se le gente sono delle pippe Per esempio il canale YouTube che vi lascio in descrizione Che si chiama Tifo Fa dei video e c'è molta più gente Che è più sveglia e che a volte potrebbe anche Uccidere quando fai video con Noob Pro Hacker tipo quelle lì Vi lascio uno in descrizione a caso Se riesco Tipo Ephonium Redunda Ma 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 Può essere un computer uno che si chiama così? No Comunque quando fai i video Tifo Cioè ok lui è un Pro Player Non è che gioca contro il computer È un Pro Player E anche io sono diventato un Pro Player adesso Potrei fare milioni di visual ma non lo faccio perché nessuno mi guarda Cioè ho anche imparato a editare C'è uno che si chiama MassiTassi06 Tipo me Non può essere un computer Anche perché State vedendo sono dimosti da Tifo Quindi non dovete rompere i coglioni Initial È tipo spagnolo non lo so Io uso il titolo nei miei video alcuni era di spagnolo Ma è incredibile Ok Comunque ragazzi siamo sesti Ma il quinto sta a 472 Che è questo qua che ho appena iniziato a mangiare un po' di roba Perché sto arrivando fra Io sto arrivando Eccomi qua sono in classifica raga Cioè questo qua nonostante tutto è terzo Totalmente Totalì a caso Vieni 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 Ragazzi sono più in vantaggio di lui Stiamo andando quinto C'è pure C'è pure Scooby Doo Scooby Doo Dove vuoi andare Dove vai Cosa fai Cosa fai da lì Wow E sono primo E sono Vabbè ero primo L'avete visto ragazzi Quindi haters del cazzo Avete visto sto video Vi dico Che sono arrivato prima di nuovo ragazzi Non esulto neanche Perché ormai sono un pro player Ok Questo è l'ultimo video Solamente per dissare Dissing Perché la gente vuole il dissing qua Solamente per dire ai miei haters Che non sto giocando contro i computer Perché paperi ho due Party mod E' tutto online Ci sono anche gli sponsor di FIFA Oh Team CD Vi faccio un ultimo esempio pratico Genantro Eh Uno che si chiama Genantro Può essere un Un cavolo di computer No Vabbè ragazzi La smetto qua Dove è quel figlio di puttana di prima Che lo vado a uccidere Tipo Undertaker Quando si è Vendicato Su Brock Lesnar Quando ha vinto A bestemmenia Cosa vuoi fare te Tipo No ragazzi Questa è fantastica Etta Mirabella Tu haters Che hai mai scritto Ritardato di merda O robe del genere Guarda sto video Leggi Etta Mirabella Può essere mai un computer Eh Può essere mai un computer Brutto Testa di me Mentre se ritrovo Riesco a ritrovare il commento Lo vado a cercare Ve lo giuro E gli metto il video Vabbè chi se ne frega Gli metto il video Questo qua Che state vedendo Ve lo faccio vedere A quel A quel Mona Lo puoi dire Mosconi Digli a lei Andrei Mona Bravo Digli anche tu Tata di fagli il piacere Bravo Cioè Etta Mirabella Ragazzi Tsarist Trussia Vorsest Può essere un computer Staccavolo di gente Anche il mio amico Giovanni Dice che è contro i bot Non è contro i bot Eh contro i bot Questa è la prova Che per il periodo Non è contro i bot Guardate questo video Il mio amico Giovanni Di Gregorio Quell'altro figlio Di put C'è il suo ero adesso Vorrete vedere? Eh? È contro i computer? Adesso che avete visto Etta Mirabella Avete ancora qualcosa Da ridire? Vabbè Se questa partita Che ho fatto di merda Sì avrete Di sicuro qualcosa Da ridire Momo? Ma 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 come fate Con far comparire Le foto di Momo Che è passata di moda Già da tre anni e mezzo Ancora un po' Ragazzi Ultima partita Ma poi quinto Perché ragazzi Devo andare a picchiare Il mio haters No scherzo Il mio haters poi È il singolare Non lo voglio Anche perché non so neanche dove abita È morto Godo come un riccio Perché gli sono ordinato da parte Quello che mi ha ucciso prima Che era primo Sono diventato primo per un secondo Eh È lui Cazzo ce lo fa Godo come un riccio Appena nato da poche ore Matti il biondo può accompagnare solo Ragazzi Sempre Può sempre accompagnare Potrei anche fare la modalità Mappa piccola Ma vincerei subito Quindi ragazzi Direi Che non è necessario E comunque Sono quasi in classifica O addirittura Sono in classifica BAM No Ma fottuto sul Sullivan Stenci Può essere un computer Vabbè la smetto da ragazzi Leonardo Oliver Ma Oliver Kahn Ragazzi Alcune volte Gli haters Non li capisco Perché sono delle teste di minchia E basta Hanno l'applicazione di Youtube Solamente per rompere i coglioni Alla gente Agli youtuber Che non gli riafrega niente Sostanzialmente Agli youtuber Degli haters Se li lasciano perdere E basta Che è sto qua Che cazzo vuole Ma penso che Favij Abbiamo fatto sti discorsi Migliaia di migliaia di volte Quindi non c'è neanche Di stare a dirlo Reddit intanto L'ho superato E mi ha risuperato Ragazzi Mi sa che tocca fare Una seconda porta Incredibile Oh Oh No Vabbè ragazzi Spero che vi sia piaciuto Il video Commento mi piace Scrivetevi al canale Alla campanella Ci vediamo al prossimo video Ciao Bella ragazzi